ciao amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale prima di cominciare come al solito ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo questa foto è stata scattata in spagna e mostra questa coppia mentre si fanno un selfie nulla di strano a parte quello strano volto che appare sulla foto alle loro spalle un volto dall'aspetto diabolico con uno sguardo sinistro un ragazzo riprende alcuni strani fenomeni paranormali che accadono in casa sua durante la registrazione i fenomeni paranormali continuano ad aumentare al punto tale che il ragazzo decide di andarsene il più velocemente possibile ciò che riprende mette davvero i brividi ma andiamo a guardare il documento a guardare il capitico a guardare il documento ok se vuol da me far pass se escucha se escucha en paz se escucha en paz se escucha en paz se escucha viva no se se escucha se escucha viva no se escucha en paz me voy voy a la casa de mi amigo esta foto la guardia decide di scattare questa foto e questo è ciò che è rimasto impresso sulla foto in una casa in spagna un uomo viene perseguitato da uno spirito che infastidisce l'uomo bussando ripetutamente dietro la vetrina della finestra il filmato è davvero incredibile ma andiamo a guardare il documento qui si se escucha Questa foto è stata scattata da un ragazzo di nome Ruben Liano. Il ragazzo racconta che nella sua scuola ci sarebbero voci su una strana apparizione di una ragazzina con un abito completamente nero. Così Ruben decide di scattare alcune foto e tra le tante foto su una di queste foto rimane impressa l'immagine di questa ragazzina con un vestito completamente nero e con uno sguardo perso nel vuoto. E anche oggi siamo arrivati al termine ragazzi. Il video finisce qui. Non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati. Io vi saluto e come al solito ci rivediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Ciao!